Un po' di Romania anche ad Agrigento. L'Università Duranea de Gios di Galati ha avviato un percorso con il CUA. Si tratta di un progetto molto ambizioso che punta ad aprire nella città dei tempi la prima facoltà italiana di ingegneria agroalimentare. I vertici dell'Università Romena sono già stati ad Agrigento. A fornire il proprio contributo in termini didattici potrebbero essere alcune grandi aziende di eccellenza siciliane. Il CUA dovrà soltanto sborsare una quota sulle iscrizioni, ma l'offerta formativa che deriva da altre università potrebbe moltiplicarsi. Ci sono infatti sul tavolo una laurea triennale in musica e spettacolo e una biennale in tecnologia del suono, entrambe da realizzarsi con un Politecnico statale. Intanto sono partite le lezioni del corso di mediazione linguista. Rallentamente, invece, nelle operazioni di trasloco a causa della mancata approvazione del bilancio del Consorzio, che verosimilmente sarà votato in tempi brevi, ma sono necessarie delle risorse per le operazioni fisiche di trasferimento della sede. Mentre il Tribunale amministrativo regionale ha rinviato, adatta da destinarsi il pronunciamento sulla richiesta dell'Università di Palermo di un risarcimento da oltre 8 milioni di euro per le spese delle docenze degli anni passati, si fa sempre più spazio all'ipotesi che la vicenda possa essere ricomposta fuori dalle aule giudiziarie.